I discendenti di Ganges Khan e Tamerlano hanno fatto la grande via della Seta e loro sono arrivati dalla Repubblica del Uzbekistan oggi dalla Samarkanda. Partendo dalla Samarkanda loro hanno fatto la Bukkara, Paisi, Ganshi. La parola significa, come in italiano, come soffa di bambi, sedia, quale era simbolo di autorità. Persiano, torri, indiano, cincarazzo. Cosa è questa? E' una nuova. Un atteggiartistico, artificiale, La nostra значит che del ciò che si trovi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.